di San Marino RTV da M Parigi di Trebimeteo. Una zona di bassa pressione alimentata da correnti gelide dal nord Europa, domenica, favorirà una certa instabilità sulla nostra penisola. Un crollo delle temperature sensibile da prima al nord e un rinforzo della ventilazione di bore grecale. Uno sguardo a cosa ci attenderà sull'Italia? Ebbene, piogge e rovesci sparsi su gran parte del centro-sud, fenomeni anche a sfondo temporalesco, neve inoltre sull'Appennino attorno ai 700-800 metri di quota, ma la quota sarà in graduale calo entro sera attorno ai 300-400 metri. Avremo nubi irregolari sulle regioni settentronali e con pioggia, misto neve sulle regioni di nord-ovest, sul Piemonte qualche fiocchetto sino a basse quote. Ora osserviamo cosa ci attenderà su Emilia, Romagna e Marche. Cieli grigi coperti, precipitazioni diffuse, nevose sull'Appennino e come si anticipava con quota neve in graduale calo entro sera. Le temperature sono in drassico calo, il clima è più freddo invernale sia di giorno sia nella notte all'alba. Uno sguardo a cosa ci attenderà su San Marino sia nella giornata di domenica sia di lunedì. Insisterà una copertura nuvolosa, compatta ed estesa e avremo deboli nevicate. Nell'avvio della nuova settimana avremo un ulteriore calo delle temperature sia nei valori minimi sia massimi. Con questo per il momento è tutto, dettagli maggiori come sempre sull'App di Trebi Meteo sul nostro sito web. Grazie a tutti! Grazie a tutti!